Eccoci qua, amici e amici di Rossini TV, siamo di nuovo nel salotto di Fisioradi Medical Center, una nuova puntata di Check Up Obiettivo Salute, terza stagione, abbiamo ospite un amico che già l'anno scorso era stato con noi, Alion Sciarca. Alion, buonasera. Ciao a tutti, buonasera Antonio, anche a me fa piacere essere di nuovo qua con te e tutti i telespettatori. Grazie Alion, Alion è un fisioterapista e quindi proprio appartiene a quella che è la particolarità più forte di Fisioradi Medical Center, che lo dice anche il termine, è proprio un centro di fisioterapia. Alion, ma questa fisioterapia, tu sei di origine albanese, sei giovanissimo, 26 anni, da dove ti è nata questa voglia, questa passione di curarti di questo aspetto della medicina così importante per la riabilitazione? Allora, io Antonio sono cresciuto in una famiglia dove mia madre ha fatto l'infermiera in tutti questi anni, in 25 anni, quindi a vedere a lei che curava la gente, che prendeva cura della gente, mi faceva sempre, mi è nata lì l'idea di prendere cura della gente. Poi, tra infermieristica e fisioterapia, ho scelto la fisioterapia perché a me piace mettere le mani sul paziente e di curare le loro articolazioni, il loro sistema muscolo-scheletrico. Quindi, dopodiché ero davanti a una scelta e ho fatto questa scelta qua. Peraltro hai fatto la scelta giusta, nel momento giusto, perché la fisioterapia è una pratica in grande crescita, ma per un semplice motivo, ottiene dei risultati straordinari. Persone che, grazie a un percorso di riabilitazione ben fatto in fisioterapia, superano delle patologie, degli incidenti, delle questioni decisamente gravi e importanti. Sì, è una branca della medicina che va a curare le persone, che va a rifinire il lavoro che magari ha fatto il chirurgo in sala operatoria, oppure è un lavoro che ti permette di non portare il paziente in sala operatoria, ma di curare tutte queste articolazioni senza aver bisogno della chirurgia. E ci sono, nello specifico, alcune patologie che effettivamente trovano una grande soluzione nella fisioterapia. Quali sono queste, in principal modo? Allora, qua da Fisioradi noi trattiamo tutte le patologie del sistema muscolo-scheletrico. Una cosa che a me piace tantissimo, e anche qua da Fisioradi ci piace tantissimo, è l'articolazione della spalla. Trattiamo tanti pazienti che hanno problematiche della spalla. Considerate che la spalla è l'articolazione forse più sottoposta a stress sempre, per tutta la vita. Sono due, con le mani facciamo tutto, solleviamo pesi, gesticoliamo, ci muoviamo, e purtroppo tante volte capita di avere dolori e problemi che si affrontano da un punto di vista medico, chirurgico e fisioterapico, Allion. Sì, la spalla è un'articolazione molto complessa, è un'articolazione che ci permette di fare tutti i movimenti nello spazio e è fatta in un modo che la sua anatomia non lo permette di essere stabile come le altre articolazioni. Quindi, dato questa conformazione anatomica, molto spesso va in problematiche. Cosa significa, in cosa si estrinseca il concetto di lussazione della spalla? Perché un discorso è una frattura, un discorso è una lussazione. Allora, qua da FisioRadi noi trattiamo un po' tutte le patologie della spalla e li dividiamo in tre grandi aree, diciamo. Aree. Li dividiamo in tre grandi aree. Dividiamo le patologie, un gruppo sono le patologie tendine della spalla, un altro gruppo sono le lussazioni e un altro gruppo sono le fratture e le protesi della spalla. Se vogliamo parlare precisamente delle lussazioni, una lussazione succede quando la testa dell'omero esce dalla glena e questa comporta un'instabilità dell'articolazione. Dal punto di vista fisioterapico, dopo che è stata fatta una valutazione dal chirurgo ortopedico, il chirurgo decide se questa spalla per diventare di nuovo stabile ha bisogno solo di un trattamento conservativo, quindi di un tutore per poi passare alla fisioterapia oppure di una soluzione chirurgica. Quindi sono delle situazioni dove bisogna prendere molto seriamente il percorso e bisogna capire come devi agire. Ma quando succede appunto che si sente dire si è lussato una spalla, in pratica cos'è successo a livello dell'articolazione? La testa dell'omero esce dalla glena, quindi c'è stato un trauma oppure poi le lussazioni e le instabilità noi le dividiamo in altre tre macro aree. Di solito quando sono traumatiche e non traumatiche, quindi quando una lussazione è traumatica c'è stato un trauma e quindi questa testa dell'omero è uscita. In una lussazione non traumatica questa lussazione avviene perché oppure ci sono le lussazioni sempre recidive perché c'è stata una patologia, una lesione a livello dell'aglena oppure ci sono dei atleti che sono instabili per il loro sport che fanno. Ma perché c'è così particolare attenzione sulla spalla? L'abbiamo capito ovviamente è l'articolazione più sottoposta a stress, però qui in effetti a Fisionade Medical Center c'è una specializzazione molto approfondita su questa articolazione. Questa passione è nata a Maurizio 25 anni fa quando lui è andato dietro il dottor Porcellini, il professor Porcellini e da lì è iniziato tutto il percorso sulla specializzazione della spalla. Quindi dopo di che ogni persona che veniva a lavorare da Fisioradi si concentrava maggiormente sulla specializzazione per questa articolazione. Oggi qua da noi visitano tre medici che fanno parte dell'ospedale di Cattolica, che è un ospedale dove trattano solo la patologia della spalla. E questa anche a noi ci dà la possibilità di andare in sala operatoria, di andare dentro agli ambulatori medici a vedere tutte le visite, ad assistere su come si fa una diagnosi della spalla. E dopo magari da lì da iniziare a capire meglio come si gestisce un percorso terapeutico. Quindi c'è proprio la possibilità di fare un percorso riabilitativo dalla A alla Z grazie a quello che vedete sin dalla parte medica. Sì, noi siamo fortunati su questo punto di vista proprio per questo, perché riusciamo a vedere il paziente dal momento in cui lui va a fare la visita medica fino a quando va a fare la visita di controllo alla fine di tutto il percorso terapeutico e che ritorna alla sua vita quotidiana o alla sua attività sportiva. E per questo qui a Fisioradi Medical Center esiste la possibilità di fare anche un passaggio importantissimo attraverso quella che si chiama idrochinesi terapia, Alion. Sì, questo è un discorso che mi piace tanto Antonio perché qua da noi facciamo un percorso che include sia la terapia manuale sia l'idrochinesi terapia. Riusciamo da subito a muovere il paziente sia se è un trattamento conservativo che un trattamento post-operatorio. L'acqua ci permette di attivare tutti i muscoli già dalla prima fase, cose che il paziente non può fare fuori. Poi l'ambiente della piscina è un ambiente molto piacevole dove l'acqua è riscaldata e a 34 gradi e i pazienti si sentono molto nel loro agio dentro la piscina. L'altra cosa dell'acqua è che facendo tutti gli esercizi senza la gravità riescono a muovere molto meglio gli atti e riescono a fare tutti quei movimenti che fuori non possono fare. Certo, infatti è una pratica davvero molto, come possiamo dire, capace di entrare nella possibilità di cura perché, esatto, il paziente che entra in piscina si sente anche bene. Sì, si sente bene perché sai, quando essi dopo un intervento, se vai ad entrare in un centro dove ti offrono la possibilità di stare proprio nel tuo agio, dove poi l'acqua è riscaldata, ti rilassa anche i muscoli, quindi è creata a posto per un percorso riabilitativo. Quindi direi che è una soluzione che noi abbiamo da tanto tempo e che ci dà dei risultati meravigliosi e ai pazienti piace tantissimo. In pratica avete la possibilità di trattare tutte le principali patologie che riguardano la spalla. Sì, qua da noi abbiamo, come ho detto anche prima, avere tre medici specialisti sulla spalla ci permette di trattare tutte le patologie della spalla perché viene fatta una diagnosi esatta già dall'inizio del percorso, cosa molto importante e questo ci fa lavorare a noi fisioterapisti con molta più serenità sapendo che la diagnosi è esatta e abbiamo un protocollo di lavoro molto chiaro su quella patologia. Tu poco tempo fa, nel mese di gennaio, sei stato insieme a Maurizio Radi, il titolare di Fisioradi Medical Center, a un convegno proprio in Albania, Tirana. Che effetto ti ha fatto? Cioè, secondo te avete portato questo scambio culturale con l'Albania, avete portato un qualcosa di nuovo ma a vostra volta avete anche preso qualcosa? Sì, questo è un fatto molto interessante Antonio. Quando sono arrivato all'inizio in Italia, quattro anni fa, uno dei miei obiettivi era di studiare il più possibile su delle cose che in Albania non avevo la possibilità di studiare. Dal momento in cui sono arrivato dal Fisioradi mi sono sentito proprio a casa mia, nel mio agio, perché finalmente avevo la possibilità di riuscire a studiare tutto quello che volevo studiare. La spalla era uno di questi argomenti, quindi dal primo momento che ci è data la possibilità di portare quello che io ho dovuto imparare, spostarmi da casa mia, di portare questo corso in Albania, sono stato molto contento. Gliel'ho proposto a Maurizio, lui era contentissimo, quindi siamo andati là, abbiamo fatto questo corso di due giorni, tutti i partecipanti sono rimasti contenti perché hanno visto e hanno capito che tante patologie della spalla, se hai una diagnosi giusta, i protocolli giusti si possono risolvere. Ecco, questo è molto importante perché ci fa capire quanto sia fondamentale lo studio, l'aggiornamento e l'essere sempre pronti a innovarsi e a innovare anche proprio sui pazienti che hanno bisogno di voi. Sì, decisamente sì, direi di sì perché lì c'è un problema un po' ancora con tutte le linee guida, tutti i protocolli, inizia il problema magari perché i pazienti non vanno dal medico a fare una diagnosi giusta, non ci sono i specialisti ortopedici come sono qua in Italia, dove c'è l'ortopedico della spalla, l'ortopedico del ginocchio, dell'anca e così via. Quindi partendo da questo presupposto anche la parte riabilitativa dei fisioterapisti non è così sviluppata come ormai in Italia, dove tutto sta prendendo un via del genere. Se oggi abbiamo un ortopedico della spalla, ci sono anche tanti fisioterapisti che si specializzano sulla spalla e fanno solo quell'articolazione lì. Perfetto, e non a caso qui a Fisioradi Medical Center sono tanti fisioterapisti, tanti medici che collaborano e lavorano a strettissimo contatto per trovare sempre i percorsi migliori nella cura. Alion, grazie davvero. Grazie a te Antonio. Grazie, sei stato davvero molto molto chiaro, ci hai fatto capire una volta di più quanto sia importante e utile avere strutture come questa sul nostro territorio. Grazie mille, è stato un piacere per me essere qui e a condividere tutto questo con i telespettatori. Grazie, quindi l'appuntamento lo rimandiamo a lunedì prossimo per la nuova puntata di Check Up Obiettivo Salute terza stagione, continuate a restare sullo Sine TV, buona serata a tutti voi. Grazie a tutti.